Mmm, questa situazione non mi piace, dovrei crederci, sarà una trappola, che cosa dovrei fare insomma? Quel messaggio mi ha proprio sconvolto, andare in fondo un dungeon e trovare una prigione con un messaggio con scritto che il mio amico è stato intrappolato nel reame del crepuscolo o del tramonto, che diamine c'era scritto? Intendono forse la Twilight Forest? Già abbiamo affrontato in un'altra blazecraft la Twilight Forest, che stiano parlando di Giuliano, ma dove lo potrei trovare? Insomma, Giuliano se n'è andato, come posso sapere se l'hanno davvero rapito o se è veramente andato via e non torna più perché si è voluto trasferire con qualche suo amico villager, che ne so? Effettivamente ci devo vedere chiaro, potrebbe essere una grande trappola, ma se voglio le mie risposte devo andare nella Twilight Forest. E salve a tutti i blazers e benvenuti in questa nuova puntata della blazecraft. Ragazzi, un nuovo problema si è posto dinanzi al nostro cammino, uno scheletro sul ponte, esatto, stavo parlando proprio di lui, uccidiamolo subito, dov'è che è volato? Non lo vedo più. Ma minchia, come sciottano sti scheletri? Avete visto che mi ha sciottato in volo? È stato pazzesco. Vabbè, no, ovviamente non stavo parlando di questo stupido scheletro, ma di quel messaggio che abbiamo trovato nel dungeon. Secondo me potrebbe centrare con Giuliano e la cosa mi preoccupa molto. Tra l'altro un'altra cosa che mi preoccupa è che ho quasi finito le mie povere scarpine e che questa volta il letto va, l'altra volta non riuscivo a dormire, non so per quale motivo, ma questa volta ce l'abbiamo fatta ed è un'ottima cosa. Almeno qualcosa che va bene in questa serie c'è, yeee, siamo contento. Allora ragazzi, dobbiamo tentare quantomeno di andare nella Twilight Forest. Sarebbe la nostra terza dimensione nella serie, l'overworld, la atom, il nether e quindi sarebbe la quarta. Perché ho detto terza? Perché l'overworld non lo dovrei contare. Beh, fa niente. Comunque sarebbe figo utilizzare questa zona della nave, questa zona che è stata spalancata per qualche motivo, riunirla alla nave e usarla come, magari, orto botanico e poi aprirla all'esterno dove magari qui mettere una serie di portali, per dire. E magari sfruttare tutto questo giardino intorno per altri portali, per dire. E magari uccidere l'ennesimo stupido scheletro che anche ha una freccia potenziata, quindi per dire, magari ce lo dobbiamo togliere dai coglioni subito. Ok, e abbiamo sbloccato un cappello a papera, per dire. I cappelli in questo modpack sono ignorantissimi, guardate quei due maiali laggiù, che cosa c'hanno in testa? Comunque, ragazzi, dobbiamo fare una cosa molto semplice per la Twilight Forest, in realtà. Abbiamo il diamante, il portale lo so fare, mi ricordo come si fa. Ci serviranno dei fiori, degli stupidissimi, semplicissimi fiori, quindi, o dei funghi. Quindi li andrò a raccogliere in giro per la foresta e mi voglio dirigere a esplorare prima questi punti e poi anche questo punto, che sembra una sorta di mondo corrotto. Vorrei capire che cosa nascondono questi due quadrati neri. L'ultima volta abbiamo trovato un enorme dungeon, che tra l'altro dovremmo cercarne un altro, perché abbiamo visto che il boss che aveva droppato il suo drop, per l'appunto, ci dava un oggetto utile ad aprire un varco dimensionale. Questo oggetto è stato polverizzato da uno stupido creeper, e ovviamente ce lo dovremmo ricavare nuovamente in qualche modo. Quindi sicuramente ci farà comodo constatare se sono portali, dungeon o quant'altro. Quindi andiamo. Ragazzi, perché c'è un enorme ogre di fuoco in mezzo alla foresta? Tra l'altro non capisco neanche se mi... Mi sa che sì. Mi vuole picchiare. Oh mio Dio, ma che cazzo? Oh, aia, pezzo di merda, vieni qua, ti aro, ti faccio malissimo. Quanto era buggato questo ogre. Eh, mi sta colpendo il ritardo. Eh, che è? Ha dato fuoco alla... No, ha dato fuoco alla foresta, raga. Ha dato fuoco alla foresta, stupido ogre. Dobbiamo... Che cazzo è che mi colpisce? Cos'è? C'è un... Ci sono i silverfish. Basta, si è i silverfish. Mi perseguitano. No, raga, è un casino. La foresta sta andando in fiamme. Devo spegnerla. Devo spegnere tutto. Magari non dando fuoco anche a me stesso, si intende. Oh mio Dio, Eren, passione... Spegnere i fuochi. Stavo per dire passione pompieri, però suonerebbe estremamente strana come cosa, quindi ho evitato. E qui abbiamo tolto tutto. In teoria manca questo unico blocco che sta prendendo fuoco, però è isolato in aria, quindi ci siamo salvati. Quel danato ogre ha distrutto tutto. Non mi ricordavo che gli ogre della Mocreators avevano questo enorme potere di griffing. In più quello era di fuoco, quindi c'è andato proprio di sfiga. Però l'abbiamo arato, dai. Devo essere onesto. E abbiamo, oltre che passato, i due punti che volevo vedere. Quindi ci dirigeremo su questo qui, che dovrebbe stare a questa parte. Ecco, lo vedo nella minimappa. E credo che sia un albero. Semplicemente. È un albero? È questo albero qui. Ok, è un albero un po' più scuro della natura, che fa questo colore scuro nella minimappa. Ok, non c'è assolutamente nulla qui. Però abbiamo trovato dei funghetti. Ok, questi sono molto utili. Ce li prendiamo. Ci sono cani che non sono giuliano, purtroppo. Me ne farò una ragione. E dobbiamo prendere altri fiori, altri funghi. Potrei prendere solo i fiori gialli. Sono un po' ovunque. Però, vedete, per esempio, i fiori rossi si trovano. E, oh mio Dio, c'è un lupacchiotto che sta uccidendo tutte le pecore. Non mi voglio intromettere. Vediamo un po', vediamo un po', ragazzi. Allora, ho trovato questi fiori rossi. Ne prendiamo un altro po'. Mentre se mi state per scrivere nei commenti, ma Eren sta laggando. Raga, portate pazienza. Si sta generando un bioma che è abbastanza impegnativo. Guardate quanti alberi, quanti dettagli. E' ovvio che un pochino di lag c'è, perlomeno non posso evitarlo con l'hardware che ho. E laggiù vedo qualcosa di strano. Forse è questo il punto che avevo visto nella mappa. Un altro di quelli strani obelischi. Vabbè, comunque si stava dicendo. Abbiamo... Perché ho del fuoco? Cosa? Ok, ho del fuoco. Abbiamo raccolto... Credo a sufficienza tra fiori, funghi e quant'altro. Mi servirà di fare un portale, se non sbaglio, due per due. Quindi un totale di dieci di queste cose. Quindi dovremmo esserci. Magari prenderò un altro funghetto se lo trovo. E lì c'è uno di quegli strani obelischi. Che rimangono un mistero per me. Almeno per il momento non mi sono ancora informato su come funzionano. Eldritch Capstone. Ok. E torniamo dunque alla nostra amatissima nave che, ora che ci penso, non ha ancora un ingresso reale per entrarci. Ma ogni volta ci salto dentro in qualche modo strano, uso il waypoint oppure le enderperle direttamente. Comunque per il momento possiamo fare così. Direi che con gli oggetti che ci servivano ci siamo. Devo solo capire dove buildare il portale e mi servirà un diamante. Perfetto. E a questo punto della terra, magari. Terra che non ho, quindi nulla. Andremo a farlo qui fuori in giardino il portale, semplicemente. Quindi buttiamoci qui. Potrebbe essere una bella zona esteticamente parlando. Secondo me sì. Quindi se noi ci mettiamo qua, scaviamo esattamente due blocchi per due. In questo modo. Raccogliamo i drop. Ci distanziamo un attimo. Vado a prendere i fiori. E ne mettiamo un po' e un po' in modo da circondare il portale per intero. Ho anche preso un altro funghetto sulla strada per tornare a casa. Funghetto che non riesco a piantare però. Questo è un problema. Quindi mettiamo solamente i fiori. Sperando che effettivamente ci bastino. Ma non ci bastano perché ho fatto, a quanto pare, dei conti orribili. Perché questi funghi possono stare sull'erba ma quando poi li raccolgo non riesco a ripiantarli? Me lo spiegate? C'è troppa luce forse. Vabbè, andiamo a prendere quegli altri fiorellini lì e usiamo quelli a questo punto. Oppure il fiore bianco. Andrà bene questo fiore qui? Proviamo con un po' di fiori a caso, raga. Ok, mettiamo questo fiorellino bianco che ci sta molto bene e poi con il giallo chiudiamo qui. E in questo modo abbiamo la conformazione del portale. Ci manca una cosa importante però. Ci manca il secchio di acqua che ci permetterà di creare una sorta di sorgente d'acqua infinita che darà origine al portale. Quindi questo è fondamentale. Entriamo, prendiamo del ferro. Eccoci qui e ci facciamo al volo un secchio. L'acqua ce l'abbiamo nelle vicinanze quindi non sarà un grosso problema e possiamo tranquillamente completare il tutto. Quindi ragazzi andiamo a mettere una secchiata d'acqua qui e prendiamo ancora dell'acqua. Tanto qui poi si rifà subito la sorgente che va benissimo e ne mettiamo un'altra da questa parte. Ora dovremmo essere a posto. Droppando un diamante al suo interno dovremmo poter creare il portale. Vai! Qualcosa non va! Ok, no, funziona! Perfetto! E ha dato fuoco a tutto. Un po' cattivo questo fulmine. E mi hai distrutto anche i fiori. Quindi, tec, cosa me li fai mettere a fare se poi sono maleducato e distruggi tutto? Ecco, ci siamo comunque. Questo, ragazzi, è il famoso portale per la Twilight Forest. E lì dentro si potrebbe nascondere Giuliano. Mi faceva strano in effetti il fatto che lui non fosse mai tornato. Magari è stato davvero rapito. Forse è per quello che non ha mai fatto ritorno e non mi ha seguito. E voi direte, come fa a seguirti se te ne sei andato? È un cane! Con il fiuto dovrebbe poterlo rintracciare il suo padrone. Anche se ogni tanto dice che sono io il suo cane e lui è il padrone. Però secondo me sono io il padrone. Quindi dovrebbe potermi rintracciare, insomma. Dunque, ragazzi, non abbiamo altra scelta se non quella di entrare e controllare. Vediamo. Ho le cose che mi servono. Ho anche fin troppo. E soprattutto, Ertentom. Avevo notato una cosa. Mi dice, right click to summon a delayed rapture. E questa cosa la vorrei provare. Ma se io shifto e right clicco, quindi clicco con il tasto destro mentre shifto, posso upgradeare questo tomo magico utilizzando 17 livelli. Io ne ho 64 addirittura. Quindi shift, tasto destro, li ho consumati e a quanto pare è salito di livello. E non so che cosa cambi esattamente. Però lo possiamo fare ancora con 24 livelli. Ci proviamo, raga. Oddio, c'è Pac-Man. C'è Pac-Man. Questo potrebbe essere un problema. Se hai 31 livelli lo puoi fare ancora. Ma cosa mi fa guadagnare? Cosa aumenta in tutto ciò? Posso attaccare Pac-Man intanto io? Non penso di essere pronto a sfidare Pac-Man. Vi ricordate quanta cazzarola di vita aveva? Tra l'altro non riesco neanche a colpirlo dalla distanza. E per fortuna lui è spawnato. Ma sembrerebbe non essere interessato a me. Quindi possiamo... Dove l'ho lanciata la pallina? Potevamo provare a colpirlo dalla distanza. Ma forse è meglio lasciarlo stare. Piuttosto volevo provare questo. Vediamo. Tasto destro. Cosa fa? Una sorta di esplosione? Non ha fatto nulla. Che cazzo succede? Tasto destro. Dovrebbe creare... Ah, ok. Attenzione. Che è sta cosa? Crea una specie di vortice. Che non ho capito. Non c'è un mob che non sia Pac-Man su cui provarlo. Che magari non mi faccia troppo male. Ecco, tipo quello zombie lì. Proviamo contro quello zombie qua. Ehm... Mettiamoci qui. Aspettiamo che si avvicini. Vai. Prova. Ok. Ok. Cazzo, raga. Avete visto quanto li ha tolto? Rifai? Vai. Guarda quanto li toglie. Ma è stupefacente sta cosa, raga. Oddio. Meno male che l'abbiamo potenziata. Ci sta un botto. Aspetta, shottiamolo però. Ah, ce n'è anche un altro. Forse è meglio andarsene. Praticamente crea una trappola a tempo. Che fa danno multiplo ad aria. È fantastico. Questa mod dell'Arcana RPG ha un sacco di sorprese. Comunque ragazzi, concentriamoci. Una cosa alla volta. Dobbiamo andare nel portale. Ed è arrivata ora di entrare. Anche perché i zombie si avvicinano. Quindi, buttiamoci. Vai! Con che salto però? Vai! Ed eccoci arrivati nella Twilight Forest. Con uno scenario abbastanza insolito. Che per la prima volta vedo. Perché siamo nei ghiacci. Questo è il bio... Oh mio Dio raga, perché è pieno di Pac-Man? Perché c'è un albero gigante e c'è un Pac-Man sopra? Sapete che sta mod dei Pac-Man sta un po' degenerando. Forse sarebbe meglio toglierla. Guardate c'è... Oddio, raga, sono ovunque. Sono ovunque. Guardate. C'è un bastone magico lì. Ma... Mi sembra un po' una trappola, Fritch. Sono... Dei pillar con dei drop. Mi potrò fidare a cercare di prenderli. E soprattutto... Questo bioma... Elysium Forest. What the fuck? Non doveva essere la Twilight Forest. Abbiamo fatto un casino? Ok, a quanto pare... La mod di Elysium, un'altra mod dimensionale... Ha sovrascritto un bioma della Twilight Forest. Mentre lì c'è la vera Twilight Forest. Bene. Questo... Quindi questo sarebbe... Ci stiamo spoilerando una dimensione che faremo più avanti. Che macello, cazzo. Comunque, per il momento direi di segnarci il waypoint qui. Che nonostante tutto ci servirà. Quindi marker name. Portale. Group. Portali. E le coordinate sono queste. Perfetto, ci siamo. Ok, dunque... Ragazzi... Cosa... Cazzo... Sta succedendo? Oh mio Dio! È pieno il zappo di Pac-Man! Aiuto! Hanno mille di vita all'uno. E non c'è modo di uscirne vivi. Ragazzi, questa mod sta degenerando. Forse i Pac-Man li dovremmo effettivamente togliere. Perché... Cioè, non credo sia prevista una cosa del genere. Tipo che ti spawnano 80 Pac-Man nella tua Light Forest. E se noi continuiamo a esplorare, secondo me ne spawneranno altri. Guardate. Guardate! Guardate quanti! Ma sei pazzo! E salutiamo ufficialmente... Killer Pac-Man. Rip. Piccolo Killer Pac-Man. Insegna agli angeli a invadere dimensioni che non sono di tua competenza. E a farti togliere dai modpack per questo motivo. Quindi ragazzi, questa è la Twilight Forest. A che altezza siamo qui? A 33. Ok, quindi è tutto a posto. Perché la stessa Twilight Forest ha dei biomi ghiacciati. Che però effettivamente sono molto più alti e differenti di qualcosa che sembrerebbe solo un errore. Guardate questi alberi. Cioè, tutti i Pac-Man spawnati si stavano mangiando gli alberi addirittura. Il che è abbastanza grave. Però fa niente ragazzi. Se dobbiamo esplorare un attimino e vedere che cosa si trova... Lì già c'è... Oddio. Cosa sono quelli ieti? E cazzo succede? Quello credo che sia un bioma della Twilight effettivamente. O forse no. Cosa cazzo è tutta quella neve raga? Perché nevica così tanto? Perché ci sono tutti quei mob? Sapete che se sono stili noi siamo tipo fottuti. Twilight Stream. E... Oh mio Dio raga, non si vede nulla. Snowy Forest. Perché ho anche tipo slowness quando ci entro per via della neve? Ma è tipo pesantissima come cosa. Direi di evitarla bellamente per ora e andare oltre. Ah, e da questa parte c'è un altro piccolo assaggio della Elysium, a quanto pare, con una staffa sopra questo pillarone. Io direi di approfittarne e vedere come funziona effettivamente. Sentry Pillar. Cioè, tipo che se la tocco mi spawna roba? Potrebbe essere. Proviamo? No. Non ha spawnato nulla. E abbiamo una staffa di ghiaccio che probabilmente sparerà palle di neve. Ok, pensavo qualcosa di un attimo più più. Però magari dà un effetto ghiacciante ai nemici. E chi lo sa? E qui... Oh mio Dio ragazzi. È il... È il castello di Litch quello. Questo è il castello di Litch. È diverso da come me lo ricordavo. In realtà tutta la Twilight è diversa. Sembra che sia passato molto tempo, che le dimensioni si siano scontrate collidendo. E guardate qui. Questa cosa me la ricordavo. Una barriera magica che ci impedisce di entrare nel castello. Una barriera che protegge il castello. Ok. E questa che cos'è? Una casettina. Cosa c'è qua dentro? Oddio. Un Goblin. Og Goblin. Cobbledit Dust. Per Cobbledit Nugget. Con i Gold Nugget. Cosa sono questi oggetti? Cobbledite. Proviamo a cercarla. Cobbledite. È un oggetto della Witchery. Ed è un mistero il che cosa ci faccia qui. E ci serve per fare cose molto strane. Tipo statue e pentacoli. Ok ragazzi. Questa cosa per il momento direi che non ci compete. In questo castello risiedeva un nostro vecchio nemico. Leech. E non credo possa centrare. Ma vorrei entrarci. Per controllare. Non so voi che cosa ne pensiate. Ma se Giuliano è davvero imprigionato nella Twilight. Forse la sua prigione è proprio questa. Non esiste il luogo più sicuro. Quindi ragazzi. Proveremo ad entrarci. E a vedere che cosa c'è al suo interno. Per il momento io vi saluto. Quindi un saluto da Eren Blaze. Ciao a tutti.